Dago Acqui e dove nell'Acqui ricordiamo che gioca Ieda, il giocatore di Serie A, musica. E che da noi fare tutto è un'esigenza, è un rock, un bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato, con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti e la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva un'altra chimera. Non svegliate, non ancora, e non fermateci, no, 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 no. Per favore, la mia banda suona il rock, e cambia faccia all'ocpotenza, da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline, Come brutte ballerine Ci vedrete danzare come giovani zanzare Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata Ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata È un rock bambino, soltanto un po' latino Viaggia senza passaporto E non dietro col fiato corto Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta Ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta E non smetti a te E non fermateci No, per favore no Abbiamo Tommaso collegato da Rende Cilaggiorni su Rende Frattese Sì, pronto? C'è a giorni su Rende Frattese? Sì, siamo appena iniziati alla ripresa di Rende Frattese Questa volta a parte di Caccio E' stata la Frattese che ha cercato subito di portarsi dalle parti del portiere De Brasi con alcune ricerche di lanci lunghi Che però non hanno fornito alcuni effetti Adesso è proprio questo coi viene destinato Adesso è in possesso Valla con Tascone A Valla arriva in una volontà Tutta la stretta di prima Che però la Rende non riesce a controllare Dunque il ripartimento del Rende Che però si arresta in pallo laterale Perché in alto lungo dalle retro-provenite Che finisce direttamente in pallo laterale Diciamo comunque la gara La Rende non è stata delle più esaltanti Sia per i Rende che per la Frattese Pochissime, diciamo, le occasioni pericolose Scatolite comunque da azioni ben manovrate Solitamente Rende si è fatta pericolosa su azioni confusionali Se sono stati bravi sia il portiere Che la difesa velocitata Mentre la Frattese ha cercato di portare qualche posto Qualche azione manovrata Senza però riuscire a Sì la retro-guarda del Rende Né comunque il portiere Under della squadra fiancolossa De Prattese Adesso ancora si rende in contesto Valla Con Gicchiotti Che cambia la valla con Sangaro Anzi era il numero 9 al Mandarano Che viene aterrato L'arbitro ammonisce Mora Che arriva aterrato appunto Mandarano Munizione comunque dai città E di 5 metri Siamo leggermente dichiarati sulla destra Si è persa facere il numero 7 dei Cicchiotti Che a priori è stato uno dei migliori in campo Poi evidente Che sta ben comportato comunque Nella zona della città del campo Ci siamo? Ci sentiamo più tardi allora Grazie Tommaso Grazie 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 2, 3, 4, 1, 2, 3 Grazie Grazie Abbiamo Costantino collegato Da Olbia Da Olbia c'è giorni sulla sfida Costantino Olbia Astrea Sì allora Allora Michele Siamo qui a Olbia Per la partita iniziata Da 5 a 5 minuti Il secondo tempo Da 5 a 5 minuti Il risultato è sempre Sì l'1 a 1 Dei gol Che abbiamo descritto Nel precedente collegamento C'è stata una buonissima partenza Per l'Ubia Quindi E delle stagioni Che nel resto è stata Nella parte iniziale Della partita Ma non contestizzata Ora siamo al 6 Dal secondo tempo Grazie Ci sentiamo più tardi Costantino A dopo Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti